Io posso dire che su questo tema la riforma che è stata fatta, che è entrata in vigore a gennaio, che come voi sapete ha sostituito l'azienda unica regionale con delle aziende territoriali, fa sì che noi abbiamo un monitoraggio giornaliero delle prestazioni. Ieri c'è stata una riunione con tutti i dirigenti e le prestazioni a 10 giorni nella nostra regione sono garantite al 96% dei casi e quelle a 60 giorni nel 92% dei casi. Significa che 4 cittadini sulle 10 giorni e 8 cittadini sulle 60 hanno dovuto ricorrere probabilmente a prestazioni a pagamento. Però siamo una delle regioni più performanti e i dati sono inequivocabili. Il sistema sanitario dà alla regione Marche 11 milioni in più di finanziamento perché siamo tra le 5 regioni benchmark. Quindi non ci sono evidentemente 15 regioni italiane che ammettono di dare alle Marche un finanziamento maggiore sottraendo le loro risorse. Questo è un dato ormai oggettivo. I problemi evidentemente non sono risolti. Io leggo sui social ogni tanto persone che chiamano i CUP e che non ottengono la prestazione. Qualcuno scrive, chiedete a Saltanartini che i problemi sono risolti. No, non sono risolti, però siamo tra le prime 5 regioni benchmark. E lo voglio dire ancora una volta, i cittadini quando chiamano i CUP e se hanno una prestazione a 10 giorni o a 60 giorni, se la prestazione non c'è hanno il diritto, lo sottolineo, il diritto ad essere richiamati al sistema sanitario. Noi abbiamo fatto un'inversione importante rispetto al passato. Prima il CUP rispondeva, chiamate domani, dopo domani. La prestazione, magari un cittadino di Urbino si eseguiva a San Benedetto, a Macerato o da un'altra parte, oggi la prestazione deve essere eseguita nella provincia e hanno il diritto di essere richiamati. Quindi c'è un gruppo di operatori che deve richiamare i cittadini per dare la prestazione. Stiamo parlando, e concludo, di prestazioni LEA perché tutte le prestazioni non hanno questo tipo di garanzia. Ma le prestazioni LEA, cioè le prestazioni salvavita, devono essere garantite e in questo noi abbiamo dato delle direttive inequivocabili. Naturalmente le aziende hanno delle difficoltà, ma cerchiamo di superarle.